I finanzieri della tenenza di Tropea, nell'ambito di un'attività di controllo economico del territorio, hanno individuato un deposito di bombole di GPL nel comune di Limbadi, in provincia di Vibo Valencia, accertando lo stoccaggio di un numero considerevole di bombole di gas petrolio liquefatto superiore rispetto alle autorizzazioni in possesso. Vista la pericolosità della situazione, i militari delle Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro di 261 bombole per un quantitativo complessivo di 3877 kg di prodotto, adottando le opportune cautele per il successivo trasporto in un altro luogo idoneo sotto il profilo della sicurezza. Le bombole sequestrate erano destinate all'uso domestico e il titolare dell'impresa è stato denunciato per violazione delle norme antincendio e delle disposizioni previste in materia di sicurezza e incolumità pubblica.